buongiorno buongiorno a tutti voi benvenuti al consueto appuntamento quotidiano la rassegna stampa occhi giornali fanno tv canale 17 un saluto anche a coloro che ci seguono in replica siamo in diretta in questo momento è tutto pronto i giornali sono sul touchscreen guardiamo però le previsioni del tempo e anche l'almanacco vediamo oggi mercoledì 29 luglio santa marta di betania il sole è sorto alle 5 52 e tramonterà alle 20 e 36 previsioni del tempo direi molto molto facili da da fare perché non ci sono situazioni particolari vedete la temperatura subito elevate come di norma in questi giorni e anche la webcam l'immagine che ci rimanda è di un cielo sgombro da ogni parvenza di nuvola e quindi vediamo anche quello che ci dicono gli amici della protezione civile come sempre per oggi cielo sereno poco nuvoloso precipitazioni assenti e ahimè temperature in lieve aumento e quindi insomma il cielo e la cartina vedete si presenta così con dei bei soli pieni domani invece giovedì sarà sempre sereno poco nuvoloso però ci saranno qualche formazione nuvolosa però sul crinale appenninico anche la comparsa di pioggia però diciamo che la situazione è molto regolare e vedete i locali rovescio temporali saranno però nei settori interni le temperature anche qui subiranno delle variazioni in più quindi saliranno leggermente previsioni per venerdì quindi ci avviamo verso il weekend e qui compare una simbologia anche della pioggia sul sulla costa sia per quanto riguarda la nostra provincia che le basse marche quindi cielo irregolarmente nuvoloso nuvoloso in mattinata attenuazione nei fenomeni nel pomeriggio però ci sono possibili rovescio temporali sparsi nella prima parte della giornata quindi insomma nella mattinata avremo forse la comparsa della pioggia la tendenza per i giorni successivi è possibile episodi di instabilità atmosferica sulle marche anche nelle giornate di sabato e domenica le temperature sono in aumento quindi insomma forse qualche goccia di pioggia mitigherà le temperature vedremo cosa succederà nel weekend apriamo con il delitto di Ismaele Lulli perché è stata messa sotto torchio dagli inquirenti Ambra o Ambera insomma è la fidanzata di colui che lo avrebbe ucciso e domani Ambra ha confronto anche con Igli questo lo dice il resto del Carlino e le scriveva sms a raffica e l'ammazzo e quindi ci sarà anche Mario contestata la premeditazione quindi si va verso la premeditazione la frase in albanese vedete qui è inequivocabile lo uccido detta più volte da Igli a Ambra e non è vero che c'è un dietro fronte non è vero che ho detto che lo amerò per sempre travisate le mie parole quindi adesso la ragazza ritorna un po' sui suoi passi e su quelle dichiarazioni che avevano scatenato così tanta rabbia e tanta e tanta polemica da indurre la famiglia a ad andare via dalla città cambiamo argomento tra Caronte e Circe parliamo del tempo e quindi delle alte temperature che riguardano anche l'acqua l'acqua del mare quindi il mare ha la febbre 27 gradi a largo e ne soffrono tantissimo i pesci e da sud risalgono anche quelli tropicali seguendo la corrente calda meduse proliferazione del polmone di mare ma è una specie pericolosa e poco urticante ma non è una specie pericolosa ed è poco urticante e vediamo anche frequentando i litorali insomma che fanno la comparsa sul sul bagno asciuga ancora dalle pagine del resto del carlino una notizia di cronaca una rapina è avvenuta in una farmacia a pesaro portate via 200 euro bottino esiguo pistola spianata per portare via l'incasso rapina mano armata ieri mattina nella farmacia comunale di via giolitti e rimaniamo nel carlino guardiamo le pagine di fano si parla di decoro di centro storico piano del decoro desaparecido doveva essere pronto ad aprile e invece ci sono dei rimpalli la sovrintendente dice siamo fermi ma non è un problema nostro stiamo aspettando il il comune e intanto a borgo cavur si prepara la festa per rievocare anche un gioco che parecchi di noi conoscono forse non i più giovani il gioco dell'oca e si presenta anche un vino un vino rosso ad hoc a base sangiovese el roche che naturalmente aglietterà la serata e il gioco dell'oca è sicuramente un gioco che molti hanno usato nei propri pomeriggi molti insomma della mia della mia età però insomma il gioco di parole anche il gioco dell'oca menu a base d'oca è un bel modo per trascorrere una serata ancora nelle pagine del resto del carlino si parla di carnevalesca del bel traguardo sfondato in muro delle mille tessere quindi insomma si festeggia si festeggerà venerdì sera in piazza nel salotto buono di fano dove tutto nasce e tutto termina per il carnevale e diventa così insomma l'associazione la carnevalesca fanese con più iscritti di traguardo superato mille sono mille erotti però siccome ci si potrà iscrivere alla carnevalesca anche venerdì sera probabilmente questo è un risultato che sarà superato il sindaco seri dice una manifestazione dal valore strategico è il terzo incontro dedicato a questa manifestazione ultima pagina che vi propongo del resto del carlino outlet di marotta è un argomento che è rimpallato più volte nei giornali anche quest'estate ci sono tutte le condizioni per attuare un bel progetto l'assessore lucchetti è positivo i prossimi passi quali saranno ci aspettiamo una risoluzione in tempi brevi della provincia e la ditta expandia è già pronta cambiamo la testata come sempre facciamo andiamo nel corriere adriatico vi propongo la pagina che riguarda senigallia per un caso di cronaca coltiva marivana in casa è stato arrestato eruzione dei carabinieri nell'abitazione trovata una vera e propria serra nei guai un trentenne ed è appunto emergenza sicurezza autista aggredito episodio non tollerabile salgono purtroppo numericamente questi episodi i controllori autisti che chiedono il biglietto chiedono di controllare vengono aggrediti in modo brutale è avvenuto anche a senigallia pagina di peso del corriere adriatico Matteo non ce l'ha fatta saranno donati i suoi organi parliamo del ragazzo che era stato vittima di un incidente stradale è morto ieri l'ospedale di torrellette il giovane papà che era volato con la sua auto in una scarpata lascia una bambina di sei mesi una trappola per ammazzare ismaele anche qui a centro pagina l'episodio di sant'angelo invado il pm l'illio contesta ammetta e mema la premeditazione domani ambera sarà ascoltata in un incidente probatorio saranno a confronto i due i due ragazzi ieri è stata interrogata la fidanzata appunto del reo confesso quel giorno mi ha preso il cellulare per controllarmi per controllarmi forse il messaggio che cosa aveva scritto in un atto andiamo a fanno per il corriere adriatico è in atto sale la protesta per le dichiarazioni di Carla Luzzi di sinistra unita e centrodestra insorge unanime e dice in atto un piano di distruzione delle feste popolari tutto il centrodestra contro le dichiarazioni della consigliera sulle manifestazioni fanesi aveva appunto detto che non amava né il carnevale estivo tantomeno la fanno dei cesari servizi erogati parliamo del l'ambito sociale 6 per senso di responsabilità il presidente della cooperativa il labirinto spiega la situazione paradossale nella quale ci si trova per l'ambito territoriale 6 è un caso appunto che scotta questo non siamo pagati per colpe non nostre se ci forma fermassimo licenziamenti e utenti senza assistenza questa è la situazione paradossale lamentata dal labirinto come ente di assistenza anche qui nella pagina del mercolio adriatico si parla di carnevale del bel risultato insomma che in cinque anni di gestione cecchini si è arrivati a superare le mille le mille tessere venerdì in piazza grande kermesse con una band una band importante a livello italiano che allieterà la serata ma le eccellenze territoriali non sono soltanto queste sono anche quelle gastro economiche alimentari la gastro economia è un'economia che tira olio dopo moretta e pasta di montagna è il successo all'expo dei prodotti per quanto riguarda il nostro territorio siamo a pesaro con il messaggero anche qui in primo piano lulli un piano dietro il delitto sotto torchio per ore ambera la ragazza di igli ismaele ha reagito dopo il primo colpo vedete incominciano a delinearsi bene tutti gli aspetti di questa vicenda che all'inizio non si capiva bene però insomma le indagini stanno andando avanti e il piano diventa sempre più chiaro palio di braceri l'orgoglio cittadino fotonotizia il sindaco è entusiasta grazie ai giovani li ringrazia e il meteorologo dice e ora l'afa allenta la morsa quindi insomma probabilmente le temperature rimangono alte ma insomma la sensazione di afa dovuta alla grande umidità che c'era in questi giorni si va ad attenuare parliamo di sanità e nelle marche si parla di sanità e quindi la nuova giunta di ceriscioli affronta anche questo aspetto che è stato presente in campagna elettorale sanità marini squadra coesa lo scelta io ceriscioli dice liste d'attesa e case della salute per iniziare quindi per tanto per iniziare per dare un segnale ma il sindaco di macerata tuona la notte della politica e quindi il nuovo direttore dell'asur si è presentato il governatore dice niente tagli in arrivo e quindi pesa però l'esclusione dei sindaci da queste scelte vedremo come si evolverà l'aspetto della sanità liste d'attesa sono veramente un flagello c'è gente che aspetta un anno un anno e mezzo per un ecografia una mammografia quindi insomma che liste d'attesa se vengono abbattute come tempi sarebbero veramente un bel segnale e qui nelle pagine del messaggero si parla del paglio dei braceri l'orgoglio di essere pesaresi vedete ieri il sindaco e alcuni esponenti di coloro che l'organizzano e belloni il l'assessore che va contro le polemiche dice per qualche giorno chiediamo solo un po di pazienza è chiaro che chi insomma subisce un po la presenza di queste manifestazioni subisce tra virgolette non ha proprio una condizione ottimale però bisogna come dire fare buon gioco cattivo buon viso cattivo gioco perché sono manifestazioni che fanno bene la città fanno bene a tante a tante cose l'economia sia su peso che su fano questo è insomma un light motive insomma c'è che sempre chi non non gradisce però insomma un po di malcontento insomma non deve guastare la festa e non è solo una festa dei dei braceri c'è anche un grande show quindi ben quattro giorni tra musica ospiti spettacoli e tanti stand gastronomici quindi insomma una scelta molto vasta e ancora messaggero focalizza l'attenzione sul delitto lulli che era appunto richiamato in prima pagina il delitto lulli è stato premeditato il pm ha aggiunto l'aggravante al capo di imputazione dopo aver valutato attentamente tutti gli elementi di indagine e ismaele appunto come abbiamo visto nella pagina iniziale ha reagito dopo il primo offendente ha cercato di reagire colpendo l'aggressore l'ultima pagina quella di fano anche qui musica di notte scatta la norma per la tolleranza l'assessore marchegiani appunto dice qualcuno dice che qui non si può ballare è falso è scattata la norma per la tolleranza sugli eventi musicali l'amministrazione ha intanto incontrato i carristi al centro delle contestazioni dopo i ritardi dei pagamenti e cecchini dice il presidente della carnevalesca va contro appunto le polemiche perché dice è sbagliato paragonare iniziative pesaresi al nostro carnevale sono due cose completamente diverse sarebbe come confrontare le pere con le mele insomma non non esiste proprio terme chiuse e pendolarismo la protesta di una mamma perché chiuse le terme di carignano purtroppo il pendolarismo sanitario per quanto riguarda chi si deve curare da questo punto di vista è una esigenza imprescindibile e quindi questa mamma protesta perché dice tanti disagi per far curare far proseguire le cure alla mia bambina però oltre al disagio capiamo che si sta chiudendo un pezzo anche di storia un pezzo della nostra del nostro territorio e con questo è tutto vi lascio grazie per essere stati in nostra compagnia per questa rassegna stampa di prima mattina un saluto anche a coloro che ci seguiranno in replica e questa sera naturalmente occhio la notizia alle 20 e 30 se vorrete rimanere aggiornati sulle news durante la giornata avete a disposizione il nostro sito internet il nostro portale e naturalmente facebook con la nostra pagina dedicata alle news grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie a tutti Grazie a tutti.